Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! L'attore Alessandro Gassman ha reso noto il suo lutto improvviso per una persona che conosceva sin da piccolo. Ecco di chi si tratta e le stringate ma commosse parole dell'attore. La persona che ha voluto ricordare è l'attore Nino Castelnuovo e la pubblicità all'Olio Cuore, che lo ha reso molto popolare. Nino Castelnuovo è morto a 84 anni, dopo una lunga malattia, da 15 anni era diventato quasi cieco. La famiglia sta organizzando i funerali, che verranno svolti in forma privata a Roma nei prossimi giorni. Molto probabilmente, fra i pochi che potranno partecipare alla cerimonia di sepoltura di Nino Castelnuovo ci sarà Alessandro Gassman. Nino fu infatti uno dei numerosi attori che potè frequentare sin da piccolo grazie al padre Vittorio. Alessandro ricorda su Twitter, è morta una persona che ho conosciuto e che ricordo con affetto. Alessandro Gassman